Bella ragazzi, bentornati da Niketom e TheKids perché l'abbiamo cambiato e adesso facciamo la carriera dell'episodio è breve, abbiamo appena fatto un video GTA 5 e inizieremo anche la carriera poi dovremmo iniziare fra, prima fare il mito ma fammi caricare questi due video e poi inizieremo anche quella di FIFA 18, FIFA 18 Ultimate Team no FIFA la carriera la carriera ok, ragazzi iniziamo allora andiamo su si si se vi piace questo inquadratore ah no ci fai impazzire allora, si 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 facciamo una partita mammi o presentiamo e basta? in questo primo episodio vediamo è Noctel, vediamo il tempo potremmo fare Warriors no, è Cleaver cos'è Warriors centro alla grande alla piccola variattiratrice centro va alla grande realizzatore in post prossimo 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 due metri e tredici che stiamo? 1,96 è così piccolo 1,96 vai più alto da te allora guarda più il massimo è 1,13 taglia fuori il massimo di pensiero il massimo di pensiero il massimo di pensiero il massimo di pensiero che trova una palla giù vai allora facciamo giù allora facciamo giù perfetto così così perfetto no è niente fai più il tiro ecco fai due 10 eh? ok perfetto scegli il peso scegli il peso velocità tante eh no il peso deve essere no velocità tante eh sì battiamo 110 110 110 kg che cazzo stiamo? eh vabbè eh vedi la città tante va bene deve essere grosso o no grosso grosso sinistra sinistra tamo potente no non stai oh e vabbè 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 si chiama tom quindi no è nick tom si chiama nick tom però sono mani capito quindi ho l'88 vabbè quanto i rockets vediamo raga fai simula questa partita simula la partita simula la partita vabbè simuliamola abbiamo non erano in casa si noi abbiamo vinto abbiamo vinto simuliamo ancora questa simuliamo questa simuliamo questo simuliamo questa simuliamo no perso però quale c'è se l'abbiamo perso macina simuliamo fino alla partita più bella che vediamo nel prossimo video 527A 527A simula a questa partita è la vigil siamo bravissimi con tutto questo no, ci vizio pure questo detroit contro i filipers non c'è quello giusto allora, arriviamo fino a lakers no, è il Chicago Bulls no, è il posto è il naker e il posto no, è il posto è fino al posto va bene o sennò arriviamo fino ai Cavaliers ma no, ci mettono tantissimo fino al posto meglio nel prossimo episodio c'è il video tu già ci metti il nostro è una vincione e è una vincione è una vincione credibile maia questo mi è Miami Miami Italy wow dove vinciamo? due punti guardiamo qua anche di tanto ultima partita da simulare ragazzi nel prossimo episodio se questo video arriva a 5 like facciamo dai 3 like perché non è stato perfettissimo questo però raga se questo video raggiunge 5 like facciamo un nuovo video un nuovo nuovo video di NBA e la mia carriera ragazzi se vi è piaciuto il video ciao bella raga grazie grazie